e buona per me ragazzi sono il tattico del manager e sono preso e sono qui in questo video sempre su tour manager quest'oggi continueremo il nostro percorso dove andremo ad analizzare le tattiche portandovi un 4231 che sono andato a testare con il liverpool come sempre la prima cosa che andiamo ad analizzare in ogni taxi test sono le statistiche dei calciatori che ci vanno a dire che salà è il nostro capo canoniere con 54 gol fatti e 22 assist in 44 presenza titolare e 10 da subentrato salà è anche il calciatore che ha ottenuto un voto meglio più alto pari a 7,97 e anche il miglior assistman della squadra con 22 assist eseguiti chi ha ottenuto la migliore percentuale di passaggi completati è matip con il 98 per cento salà è stato eletto più volte uomo partita vincendo 16 premi alexander arnold è stato ammunito più di ogni altro calciatore con 13 ammunizioni e non c'è alcuna espulsione alexander arnold ha fatto solamente 10 assist in questo tactic test quindi sicuramente non ha brillato come sa fare meglio in altre carriere il secondo calciatore che ha fatto più gol della squadra è ovviamente darwin nunez con 37 gol e 8 assist in 35 presenza titolare e 11 da subentrato per quanto riguarda la classifica ovviamente chiamandosi 4 2 3 1 title winners bisognava vincere il campionato e quello è stato fatto con 101 punti ben 10 in più dello united ci aggiudichiamo la premier league vincendo 32 partite 5 ne pareggiamo e una sola viene persa in campionato 130 gol fatti e 24 subiti siamo nettamente il miglior attacco del campionato e abbiamo subito qualche gol in più del manchester united che è la squadra con la miglior difesa ovviamente chi ha la miglior differenza reti siamo noi con 106 nelle altre competizioni vinciamo la champions league vinciamo l'FA cup vinciamo la caravao cup e vinciamo la community shield quindi oltre aver vinto il campionato tutte le altre competizioni giocate a partire dalle coppe nazionali fino ad arrivare a quelle europee sono state vinte tutte per quanto riguarda la tattica è un 4 2 3 1 abbastanza semplice nel senso che abbiamo il classico regista a centrocampo supportato da un centrocampista che tende a fare la doppia fase quindi centrocampista di quantità a supporto della punta abbiamo un classico centrocampista offensivo gli esterni tagliano per vie centrali del campo quindi è molto semplice da far capire ai propri calciatori questo stile tattico in ogni caso in porta abbiamo un portiere libero con i compiti di supporto che non ha alcuna istruzione aggiuntiva lateralmente i terzini sono due esterni invertiti che come vi dico sempre sono i terzini che tagliano per vie centrali del campo fino ad arrivare ovviamente a centrocampo entrambi hanno la stessa istruzione ovvero quella di marcare più stretti centralmente abbiamo due difensori centrali con i compiti difensivi entrambi sempre con marcatura stretta il ccq ha una sola istruzione aggiuntiva ed anche per lui vale marcare più stretto il regista avanzato ovviamente a differenza del regista arretrato tende ad alzarsi piuttosto che ad abbassarsi come dice già la parola stessa la sua istruzione è ancora una volta quella di marcare più stretto le fasce offensive sono due attaccanti esterni con i compiti di attacco entrambi chiaramente tagliano per vie centrali del campo ed entrambi devono marcare anche loro più stretti il centrocampista offensivo ha i compiti di supporto con le istruzioni di correre meno rischi e di marcare più stretto davanti abbiamo un attaccante che pressa che come dice già la parola stessa è l'attaccante che tende a generare il pressing per recuperare subito la palla l'unica istruzione che ha è quella ovviamente di tirare di più la parte tattica inizia con la mentalità offensiva in fase di possesso abbiamo un'ampiezza l'attacco abbastanza stretta partendo palla tra dai difesa i passaggi sono standard il ritmo di gioco è leggermente più alto si fanno cross bassi portando il pallone in area di rigore si affronta la difesa palla al piede lasciando più creatività ai propri calciatori in fase di transizione abbiamo ovviamente fare pressing a tutto campo e contropiede e in più la si lancia bassa in fase di non possesso abbiamo una linea difensiva standard con tanto di fuorigioco una linea di ingaggio più alta si bloccano le vie centrali si fa pressing più spesso e si impediscono i passaggi corti del portiere la disposizione in campo è la seguente siamo chiaramente la squadra di sinistra si può vedere che ovviamente il 4-2-3-1 in fase di non possesso diventa un 4-5-1 con il trequartista che essendo un centrocampista offensivo con i compiti di supporto si abbassa molto arrivando persino alla linea di centrocampo in ogni caso vediamo che la linea difensiva non è troppo alta è perfettamente in linea con i terzini che rimangono molto più accentrati perché è chiaramente il compito che devono fare come già letto di tagliare e andare a centrocampo anche il centrocampo è molto stretto e in linea generale è anche una squadra che è compatta perché se vediamo non c'è tanto campo tra i difensori e centrocampisti e tra centrocampisti e l'attacco siamo molto ma molto compatti in più siamo stretti sulle fasce come vedete concentriamo tutto per vie centrali vediamo il ccq che rimane un po più basso con il regista avanzato che chiaramente tende ad alzarsi l'attaccante esterno di sinistra è in linea con il regista avanzato il centrocampista offensivo è lì pronto a sganciarsi per arrivare a dare supporto all'attaccante salà che gioca sulla destra rimane un po più defilato rispetto a quanto stia facendo giotto dalla parte di sinistra vediamo che l'attaccante in questo caso rimane un po più defilato verso sinistra perché evidentemente la squadra avversaria aveva il possesso di lì quindi lui andava a creare il pressing su quella parte lì però nonostante abbia diversi compi di attacco specialmente sulle fasce che ne ha quattro con quelle istruzioni lì è una squadra che tende a lasciare pochi buchi per quanto riguarda la hit map arrivando al calendario possiamo vedere che ad agosto abbiamo vinto tutte le partite pareggiando una sola che è quella contro brentford in premier league a settembre vinte tutte tranne la sconfitta in champions contro il porto ad ottobre vinte tutte tranne un pareggio in premier contro l'eister a novembre vinte tutte tranne un pareggio e una sconfitta in premier league dicembre così come gennaio così come febbraio così come marzo vinte tutte le partite disputate senza perdere o pareggiarne neanche una ad aprile non ci sono sconfitte perché avevano tutte vittorie tranne due pareggi in premier e una in champions league a maggio vinte tutte le parite giocate come vedete è una squadra che tende a subire meno male un gol a partita però la quantità di gol che fa sono tantissimi il nostro cammino in carabao cup parte al terzo turno contro il west ham dove vinciamo per 6 a 2 al quarto turno superiamo per 5 a 1 lo stock city ai quarti di finale per 5 a 0 battiamo il tottenham in semifinale con un 5 a 2 complessivo superiamo l'everton e in finale ci troviamo il celsi e lo battiamo ancora una volta per 5 a 2 l'efa cup parte sempre al terzo turno questa volta contro il west bromwich dove vinciamo per 5 a 1 al quarto turno superiamo per 2 a 0 l'everton al quinto turno battiamo per 5 a 0 il manchester city ai quarti di finale per 6 a 0 battiamo lo stock city in semifinale superiamo per 2 a 0 il wolverhampton mentre in finale battiamo per tra 1 l'arsenal il cammino in champions league parte nel gruppo c con porto lipsia e olimpiacos quindi girone assolutamente abbordabile vinciamo cinque partite e ne perdiamo una sola facciamo 13 gol e ne subiamo 4 differenza reti quindi di 9 con 15 punti da testa di serie agli ottavi di finale battiamo il napoli per un 5 a 1 complessivo ai quarti troviamo e battiamo ancora una volta il manchester city per un 6 a 2 complessivo in semifinale per un 10 a 5 complessivo superiamo il barcellona in finale superiamo per 2 a 1 il real madrid e ci prendiamo quindi la vendetta rispetto a quanto accaduto in real life andiamo quindi ad analizzare un po di highlights partiamo dal 4 a 4 contro il barcellona in champions league così vediamo 4 gol fatti e 4 subiti chi passa in vantaggio è il barcellona con koundé che va a staccare molto bene e la insacca di testa poi noi troviamo il gol pareggio con salà che sul fondo la mette in mezzo perché sbaglia completamente la porta un minuto dopo ancora sarà sulla fascia destra tende a defilarsi poi scarica dalla parte opposta dove arriva diogo giota che fa il gol del 2 a 1 i gol diventano poi tre con jones che va da tutt'altra parte alexander handel come avete visto si accentra per trovare l'imbucata per diogo giota quarto gol nostro arriva con arthur che sulla fascia la scarica robertson in mezzo sarà di tacco trova il tap in vincente nel secondo tempo il barcellona prova a farsi su anso fatti la scarica dalla parte opposta dembele in mezzo e c'è il gol di gavi poi il terzo gol barcellona arriva dalla fascia di destra con bellerin che cavalca lungo la fascia la mette in mezzo e lewandowski da solo davanti al portiere non sbaglia così come non sbaglia dagli undici metri la seconda partita che possiamo analizzare è il 5 a 3 rifilato contro il southampton passiamo in vantaggio al 10 minuto grazie al rigore trasformato da parte di miller poi il southampton trova il gol del pareggio con di allo che apre molto bene però la mette in mezzo e mara si trova da solo noi torniamo in vantaggio con allison che lancia molto bene la palla sulla testa di luis diaz che trova un'imbucata per chamberlain poi il terzo gol nostro arriva da un altro lancio lungo questa volta chamberlain si trova a accentrarsi e calciare poi il southampton trova il secondo gol con livramento che la scarica da armstrong in mezzo ancora da mara sempre disattenta alla nostra difesa noi torniamo di nuovo in vantaggio di due gol con luis diaz che la mette in profondità milner la buona ccq si fa trovare lì pronto a insaccarla ultimo gol della parita da parte nostra anderson lancia in profondità chamberlain ancora una volta si accentra e trova prima il pallo per poi mandarla direttamente in rete il gol del southampton finale arriva con lancio in profondità di adams per gene po l'ultima parita che vi vado a mostrare è il 6 a 3 questa volta contro l'everton il primo tempo siamo letteralmente una furia tanto che troviamo 5 gol in 45 minuti il primo subito al secondo minuto con robertson che si inserisce molto bene e trova il gol del vantaggio il secondo gol arriva con arnold che la mette in mezzo giota la scarica a darwin nunnez che trova il tap in vincente il terzo gol arriva grazie al recupero a centrocampo di van dyck poi arnold a buon esterno invertito si fa trovare al centro la scarica in profondità e diogo giota trova il terzo gol il quarto van dyck recupera ancora palla subito in avanti salà la scarica e darwin nunnez dalla distanza trova la botta vincente il quinto gol arriva da palla in attiva con arnold che la scarica lateramente con a te la mette in mezzo e jones va a segnare poi nel secondo tempo l'everton prova la reazione disperata con guayet che la mette sul secondo palo e gordon la va a insaccare di testa poi ducure la scarica allo stesso gordon che lancia in profondità calvert lewin che trova un ottimo scavetto che va a superare alisson il sesto gol nostro arriva con anderson che va ancora una volta in profondità darwin nunnez in mezzo ai difensori non sbaglia davanti a pickford ultimo gol dell'everton arriva dagli 11 metri in sostanza questa è una squadra che va a sfruttare molto ma molto bene i lanci in profondità grazie soprattutto agli esterni che tendono ad accentrarsi per vie centrali del campo quindi la rapidità che hanno i nostri esterni abbinata alla tecnica o in generale alla qualità che hanno fa sì che tutti i lanci lunghi siano praticamente dei gol di contro difendendo molto stretti si è visto che sulle fasce si lascia qualche volta qualche buco aggiuntivo complice anche il fatto che abbiamo due esterni invertiti che hanno compito l'attacco quindi non sempre torneranno perché il loro compito è principalmente quello di offendere piuttosto che difendere con ciò questo era il video che riguardava il 4231 title winners io spero che il video sia piaciuto se è stato così lasciate un bel like commentate condividete e non ci vediamo il secondo video non mette il like bella rega ciao ciao ciao